Bentornato Goodleer, bentornata! Sempre da una costola delle lezioni precedenti andiamo avanti nel discorso legato all'accesso remoto. In particolar modo oggi vediamo un servizio che offre un DNS dinamico Domain Name System. Cosa sono i DNS? Nella lezione precedente la 196 rispettivo video tutorial ti ho parlato degli indirizzi statici pubblici e anche della difficoltà di poterlo ottenere in caso di necessità a seconda del provider internet in quanto non tutti i provider che forniscono accesso ad internet sono in grado di garantirti la possibilità di ottenere degli indirizzi statici pubblici o in maniera gratuita o a pagamento. Quindi in caso di necessità cosa dovrai fare? Ecco che possiamo utilizzare delle aziende che intermediano questo problema e lo risolvono. Una di quelle presenti su internet è Noipi.com che grazie al suo servizio fornisce un artificio per bypassare la limitazione che ci fornisce il nostro provider che ci dà quasi certamente un indirizzo dinamico. Tramite questa opportunità potrai accedere a distanza ad una postazione pc, webcam, servizio di videosorveglianza, antifurto e più genericamente ad ogni dispositivo connesso alla rete internet. Come si realizza? Come già saprai un indirizzo IP viene assegnato dal provider e questi lo cambia saltonamente per una questione di sicurezza. Per connetterti a un dispositivo costantemente ti risulterà difficile se appunto cambia questo IP in maniera frequente ma se hai un intermediario che si interfaccia tra il tuo pc o smartphone e il dispositivo a cui doverti collegare potrai realizzare ciò se medierà appunto questa situazione. Noipi.com è appunto una delle aziende che fornisce questo artificio anche in maniera gratuita. Accedendo al sito potrai creare un account gratuito compilando i dati necessari come indirizzo di posta elettronica, password, hostname con scelta dell'estensione. L'hostname è una chicca che ti spiegherò tra poco. Puoi sceglierlo liberamente quindi il nome dell'hostname mentre l'estensione dopo il punto dovrà essere scelta solo tra quelli disponibili. Dopo aver compilato i dati dovrai confermare il tuo account cliccando sul link che ti invieranno via email all'indirizzo di posta elettronica che hai utilizzato per la registrazione. Dopo la conferma dovrai scaricare un programmino sul tuo pc e successivamente quindi installare questo programmino. Al termine entrando nell'account appena creato potrai completare tutti gli altri dati relativi allo stesso inserendo altri dati ed eventualmente domande di sicurezza. A questo punto entrerai nella visualizzazione del tuo hostname con indirizzo ip della postazione che hai utilizzato per la registrazione quindi l'ip target. Ora avvia il programma che hai appena installato sul pc ed inserisci le credenziali prelevate dall'account che hai appena creato. I soliti nome utente e password. Dopodiché puoi cliccare su sign in. subito si aprirà una finestra in cui compare il valore hostname che avevi creato che nel mio caso ho scelto per questa lezione thegoodly.ddns.net. La richiesta è di associare questo hostname quindi questa stringa al tuo attuale indirizzo ip che è quello che è rilevato all'atto della creazione dell'account che ti viene assegnato dal tuo provider in questo caso l'ip target, l'ip bersaglio. Una volta selezionato il segno di spunta clicca sul pulsante save. Fatto a questo punto hai associato in via definitiva ogni variazione del tuo indirizzo ip fornito dal provider di accesso ad internet al valore hostname quello che hai scelto durante la registrazione dell'account. Un feedback con i segni di spunta verdi del programmino installato ti confermerà il successo di quanto hai appena realizzato. Da adesso in poi non dovrai più temere cambi di indirizzo ip dal tuo provider. Non appena verrà cambiato infatti l'indirizzo ip dal fornitore di accesso ad internet, no ip rileverà tale cambiamento grazie all'accoppiamento che hai appena realizzato e associerà il nuovo indirizzo ip sempre al tuo hostname che hai creato durante la creazione del tuo account. Ora forse la parte più ostica perché dovrai provvedere da solo o da sola. In che senso? Dovrai entrare all'interno della configurazione del tuo router e apportare delle modifiche. Ti ricordo che già avrai concesso il controllo a distanza del tuo router come accennato nelle precedenti lezioni in modo da poter oltrepassare le limitazioni dello stesso. Inoltre dovrai appunto consentire il controllo da un provider con DNS dinamico che nel nostro caso sarà noip.com. Ogni router ha le proprie impostazioni e le proprie sezioni quindi dovrai consultare il manuale d'uso, individuare la zona di competenza che verosimilmente sarà denominata appunto DNS dinamico. Entrato in zona potrai aggiungere un provider, l'azienda che hai scelto come intermediario per il tuo hostname e configurare i dati che hai impostato in fase di creazione dell'account. Quindi nel mio caso è stato l'hostname thegoodly.ddns.net, username thegoodly e la password quella che ho inserito durante la registrazione. Inserisci nei campi relativi questi dati e applica i valori appena assegnati. Attenderai qualche secondo e lo stato di servizio in qualche modo ti sarà evidenziato come ok raggiunto o app in inglese e a questo punto il tuo router sarà quasi pronto per ricevere l'input dal provider selezionato per oltrepassare i muri di protezione generati dal software e dall'hardware del tuo router. Quasi pronto perché dovrai anche aprire la porta o le porte dello stesso per poter consentire l'accesso al servizio che dovrai raggiungere. Cosa significa? Se sei un utente emule o in genere del peer to peer sai di cosa sto parlando. Più genericamente dato che ogni router ha le proprie pagine e il proprio modus operandi dovrai individuare la sezione che viene chiamata di norma port forwarding e aprire la porta o le porte dei servizi o del servizio che andrai a utilizzare che possa essere quello di raggiungere una webcam interna alla tua abitazione il sistema di videosorveglianza o un sistema di registrazione, l'antifurto, un controllo automotica e quant'altro avrai da raggiungere oltre il tuo router. Ogni servizio impiega una porta ben definita quindi dovrai conoscerla in base al tipo di servizio che dovrai raggiungere. Il sito stesso noip.com all'interno delle sue pagine fornisce una guida di massima di come configurare il port forwarding a seconda del modello di router. A questo punto e solo a questo punto sarai pronto o sarai pronta per poter controllare un dispositivo a distanza da qualsiasi parte del mondo accedendo oltre il tuo router. Allora Googer andiamo a vedere come creare un account per ottenere un DNS dinamico per ottenere poi un IP statico pubblico tramite una stringa che potremmo utilizzare per vari servizi come può essere quello di poter comandare a distanza una IP cam per una videosorveglianza all'interno della nostra abitazione. Ci sono vari servizi, ne prendiamo uno a caso noip.com. In questa zona centrale puoi già creare il tuo hostname con un'estensione variabile messa a disposizione dal fornitore di servizi ma andiamo a creare un account per poter in seguito impostare questo nome qui inseriamo una email qui la nostra password e il nome che sceglieremo in questo caso per sperimentare come The Goodly poi l'estensione possiamo decidere tra quelle fornite dal sito scegliamo ddns.net qui ci dà alcune indicazioni della debolezza della password ma comunque stiamo giocando giusto per spiegare come funziona il sistema qui puoi avere in seguito una spiegazione di quello che può essere la situazione che andremo a scegliere con un ddns libero oppure uno a pagamento che dà ovviamente delle indicazioni e opzioni maggiori la cosa particolare di questa scelta gratuita è che ogni 30 giorni devi confermare la presenza del tuo dns, del tuo nome quindi sarà sufficiente cliccare sulle mail di notifica che ti inverranno e rientrare nel dominio del sito per confermare ancora l'utilità del tuo nome che avrai scelto come hostname da poter utilizzare poi per l'accesso remoto alle tue utenze altri servizi gratuiti potrebbero non fornirti questa limitazione ma magari ne forniscono altre poi dovrai selezionare un segno di spunta per accettare i termini di utilizzo e poi se vorrai iscriverti alla newsletter o per ottenere offerte speciali dal sito seleziona pure questo segno di spunta dopo aver compilato i campi necessari vai a cliccare su FreeSignApp come vedi il sito ha inviato una notifica per confermare l'iscrizione a questo servizio andiamo quindi a vedere se è arrivata l'email di conferma eccola qua sarà sufficiente cliccare sul link che ci mettono a disposizione per attivare l'account appena creato come puoi vedere qui c'è una spiegazione di come puoi utilizzare il servizio e come dovrai completare la creazione del tuo hostname in questo caso già abbiamo scelto il nostro nome ora c'è da scaricare un file sul nostro computer clicchiamo sul link che ci fornisce il sistema salviamo pure il file andiamo ad aprire la cartella e andiamo a cliccare due volte sul file eseguibile per avviare l'installazione confermiamo la nostra scelta e procediamo per l'installazione qui ci sono due segni di spunta che ci consentono di avviare questo programma e mantenerlo attivo in background torniamo al sito dopo aver scaricato il programma ci dà indicazioni di impostare il port forwarding sul router ossia andare a consentire un accesso in remoto al nostro router andiamo a vedere di cosa si tratta qui possiamo vedere una descrizione di quel che significa il port forwarding c'è un elenco di router e in base al router che avrai installato dovrai andare a abilitare il controllo remoto ed aprire delle porte per poter realizzare quanto richiesto questa è ovviamente una guida generica ma sta a te adesso andare a individuare il router che avrai a disposizione leggendo anche il libretto delle istruzioni torniamo al nostro sito e clicchiamo su per cominciare con DNS dinamico possiamo completare la configurazione dell'account assecondando quello che ci propone il sito scriviamo sempre il nostro nome e volendo scegliamo una domanda di sicurezza puoi anche inserire le impostazioni personali ed infine salvare il tutto andiamo nella pagina dove abbiamo impostato il DNS dinamico e qui troviamo decudri.ddns.net in questo caso automaticamente il sito ha assegnato a questo indirizzo P la stringa decudri.ddns.net ogni qualvolta il provider dovesse cambiarti il tuo indirizzo IP il sito stesso associerà a questa tua stringa il nuovo indirizzo P in modo tale che potrai garantirti l'accesso alle utenze semplicemente digitando decudri.ddns.net da qualsiasi dispositivo che ha accesso ad internet come può essere ad esempio come detto in precedenza la tua IP cam per far ciò però ricorda che dovrai aprire la porta relativa al servizio che dovrai attivare in modo da poter accedere a questa utenza passando tramite il tuo router e qui mi ricollego al port forwarding di cui parlavamo in precedenza bene andiamo adesso a vedere quindi il programmino scaricato e entriamo nell'account tramite il pc andiamo a inserire il nome che abbiamo precedentemente memorizzato e la password qui ci chiede di associare il computer al DNS che abbiamo precedentemente memorizzato lo selezioniamo e salviamo come vedi adesso i segni di stato sono tutti verdi e quindi è possibile poter impiegare questo DNS appena creato per poter accedere alle nostre utenze in remoto ricordando precedentemente di aver aperto le porte necessarie per poter accedere a questo servizio bene dopo aver verificato che tutto è a posto andiamo a vedere come impostare questo parametro all'interno del router ogni router è a sé io sto utilizzando un D-Link vai a individuare la zona all'interno del tuo router dove poter creare un DNS dinamico cliccando sul pulsante aggiungi un provider andiamo ad inserire i dati che abbiamo utilizzato in fase di registrazione ripetendoli completamente dal provider andiamo a individuare in questo caso noip.com andiamo ad applicare il tutto e vediamo che in questo caso lo stato è up quindi totalmente funzionante ora che cosa significa? che potrai da un dispositivo ad esempio mobile o da un altro pc selezionare nell'url questa stringa aggiungendo due punti e la porta utilizzabile per il servizio e potrai accedere alla pagina interessata a quel determinato servizio qualora tu volessi modificare i parametri sarà sufficiente rientrare nella pagina oppure eliminare il parametro appena inserito cliccando su questa X e confermando su OK bene nella prossima lezione continuerò a parlare di nuove informazioni per il sistema operativo Windows ora come sempre un forte saluto ciao a presto da Gallo e alla prossima ciao a presto ciao a presto